Salve a tutti ragazzi, da vostro MazzincaZetto e sono qui per un velocissimo annuncio Domani sera, domani nel senso domenica Domenica Domani nel senso di domenica, non mi ricordo assolutamente il numero Sarò in live dalle 9, probabilmente 9.10 perché ritarderemo sempre quelli 10 minuti che ci stanno tanto simpatici Insieme a Mac di Glitcherhood su www.twitchtv.com Lo metterò in descrizione, lo metterò in superimpresione, lo metterò ovunque Dove saremo solo noi due e faremo Tantantam! Divinity Original Sin È un RPG molto vecchio a scuola, assomiglia ai vecchi Baldur's Gate Che si può giocare in co-op Cioè io ho il mio personaggio, Mac ha il suo personaggio e giochiamo insieme, facciamo la campagna insieme Allora, vi dico già, sarà una cosa Lunga Nel senso che non abbiamo mai giocato Divinity Abbiamo fatto giusto il tutorial insieme Due o tre volte per vedere come funzionava Per non tediarvi troppo con i comandi base Ma Passeremo tempo negli inventari per capire cosa usare Passeremo tempo per capire come funziona l'abilità Sarà un tutto un Impariamo a giocare a Divinity Chi di voi ci ha già giocato magari in chat ci aiuti, grazie Quindi se vi interessa vedere un gameplay di Divinity Anche abbastanza cazzaro perché siamo noi due alla fine Io probabilmente farò il tizio con lo spadone gigante a due mani, lui farà il mago Quindi capite bene che andremo di ignoranza più gretta Però Mi farebbe tanto piacere se voi veniste appunto domani sera dalle nove su www.glitcherwood www.twitchtv.slashglitcherwood Questo indirizzo qui lo ve lo sottolineo mille volte E ci faceste compagnia a provare questa cosa Lo facciamo appunto in live Perché se no editarlo, fare tagli, verrebbe la cosa più lunga dell'universo E anche così per avere un feedback diretto con voi Quindi ragazzi mi raccomando Se non avete impegni, se ce l'avete Cancellateli, no scherzo ovviamente Andate a vivere la vostra vita sociale, voi che ce l'avete E per chi non ha vita sociale come me e Mac Ci vediamo domani sera ragazzi Vi aspetto numerosi, ciao